Ciao a tutti, mi chiamo Dante, ho 61 anni, da circa 10 anni sono un aiuto pasticcere. Ho intrapreso questa strada un po' per necessità e soprattutto per passione, visto che prima di intraprendere questo percorso ero responsabile di produzione in un'industria ceramica. Poi l'azienda ha chiuso i battenti e mi sono ritrovato senza lavoro. Ho continuato su questa strada, frequentando corsi di professionali di pasticceria, facendo degli stage e mi sono inserito in questo stupendo mondo. Devo dire che ho lavorato con molti pasticceri, però ognuno aveva le sue caratteristiche, commetteva i propri errori e allora ho deciso insieme a mia moglie di iscrivermi a questo corso. Devo dire che io non conoscevo Andrea, però mi ha colpito subito la sua disponibilità, la sua professionalità, il modo di spiegare le cose con molta semplicità e poi anche le ricette, molte delle quali le ho fatte sia a casa e sia dove lavoro, devo dire che hanno dato dei risultati sorprendenti. Ma anche il fatto stesso di capire ogni singola materia prima, quali sono le sue funzioni, come cambia il prodotto finito a seconda, se non ne mettiamo di più o di meno. Devo dire che in questo Andrea è veramente un grande. Da ultimo devo dire che la cosa che mi è piaciuta moltissimo sono le dirette online che sta facendo, che ho seguito molto volentieri e da cui ho ricevuto dei consigli che ho applicato direttamente dove lavoro. Le ricette sono perfette, bilanciate in modo perfetto. Da consigli anche su come sostituire una materia prima piuttosto che un'altra. Devo dire che per me Andrea è diventato come uno di casa, insomma, perché qualsiasi cosa decidiamo di fare insieme a mia moglie, che anche lei è appassionata di pasticceria, andiamo subito a consultare il corso di Andrea. Ecco, in questo momento sto facendo il corso di lievitazione e sicuramente ne farò anche altri perché ormai io come unico maestro ho Andrea. È un concorso che consiglio a tutti, amatoriali e professionisti, perché, ci ripeto, ho conosciuto parecchi pasticceri molto praticoni ma poco teorici, quindi è una cosa che manca a molte persone. Ringrazio di nuovo Andrea e un saluto a tutti.